Musica Carissimi telespettatori, benvenuti al Tg dei ragazzi. Con questo Tg salutiamo il mese di maggio, che sta per finire tra giornate calde e assolate e umide e piovose. Passa la parola a Zoe, che vi leggerà i titoli degli argomenti di oggi. I vari aspetti della festa della mamma, una ricorrenza che per i più piccoli è molto importante. Domenica 20 maggio è stata celebrata la Pentecoste, che dopo la Pasqua e il Natale è la festa più importante per i cristiani. La parola Pentecoste indica i 50 giorni dopo la Pasqua e come l'ascensione è una festività mobile, perché dipende dalla data della Pasqua. Questa ricorrenza per gli ebrei era una festa agricola di ringraziamento a Dio per i doni della terra, che coincideva con l'inizio della mietitura del grano e la raccolta dei primi frutti. Per i cristiani è la celebrazione della discesa dello Spirito Santo sulla Vergine Maria e gli Apostoli, riuniti nel Cenacolo. Essi erano impauriti, insicuri, ma dopo aver ricevuto i doni dello Spirito Santo, hanno ritrovato la serenità e la fiducia e il coraggio. Per cominciare a diffondere gli insegnamenti di Gesù. In Germania la Pentecoste è molto sentita, le scuole restano chiuse anche il lunedì e i festeggiamenti sono molti. Il 10 maggio si è svolta nella nostra città la ormai famosa iniziativa della Caritas, la pace in corsa, a cui hanno partecipato molti alunni della scuola elementare e dei primi anni della scuola media. Le immagini di Tele Liguria Sud vi presenteranno alcuni momenti di questa caratteristica marcia. Il tempo incerto del mattino non ha impedito agli alunni delle scuole spezzine di partecipare all'evento educativo promosso dalla Caritas di Ocesana, in concomitanza con le altre Caritas della Liguria. Un momento di festa, di gioia, di sport e di riflessione su un tema significativo, qual è quello della pace. A dare il senso dell'iniziativa, nata con lo slogan La pace di corsa, è Don Luca Palei, direttore della Caritas di Ocesana. Il senso è proprio quello di mettere insieme la buona volontà, l'impegno, l'entusiasmo dei tanti bambini, veramente una piazza Sant'Agostino bella piena questa mattina, che possano sperimentare anche il senso proprio di correre, di mettere in campo un po' di impegno, un po' del loro entusiasmo per quello che può essere la pace già nel loro ambiente. Poi ovviamente da seme nasce grande frutto e potrà essere la pace che c'è anche nelle grandi cose. Però è per allenarsi fin da piccoli a pensare a come attraverso il perdono, attraverso l'accogliere, attraverso il donarsi, si può costruire veramente la pace. Una bella esperienza di gioco, di preghiera e di sensibilizzazione sul tema della pace, a partire dall'armonia con il vicino di banco, con il compagno di giochi. Sì, è perché ogni anno questa iniziativa è insieme anche alle altre Caritas della Liguria. È il momento in cui ci affidiamo al Signore perché poi Lui è il principe della pace. Quindi quale miglior strumento, quale migliore occasione è quella di usare anche il nostro essere insieme qui, il nostro ritrovarci e affidarci a colui che grazie anche alla nostra vita può farci essere segno e presenza di pace. Quindi abbiamo pregato il Signore con l'entusiasmo e la carica dei bimbi. Una manifestazione che si è resa possibile nella massima sicurezza, anche grazie al lavoro dei volontari e il sostegno dell'amministrazione comunale. Certo, certo, come sempre pensiamo anche a questo. Allora, grazie di cuore alla Croce Gialla che è qui, ci supporta anche in questa avventura. Come anche devo essere grato al Comune che ha provveduto a mandare i vigili che coordinano tutta questa iniziativa. E poi i tanti volontari, coloro che li vedete con la casacchina riflettente, sono qua a disposizione, sono volontari della Caritas, dell'area Giovani Giustizia e Pace e poi quanti per affetto e per amicizia sono qui a contribuire alla buona riuscita di questa iniziativa che vuole seminare un po' di pace. Poi il Via La Corsa, parecchi giri degli isolati cittadini, regole da rispettare e la classifica che indica il gruppo vincente. Ma il premio più significativo, la gioia di stare assieme, è per tutti ed è felicemente condiviso. Il 18 maggio, nel tardo pomeriggio, è stata una data storica per la Liguria, in particolare per Sarzana, che ha ospitato la terza tappa della suggestiva manifestazione della Mille Miglia. Questa corsa, nata 90 anni fa, non era mai transitata nella nostra regione. Le 450 automobili d'epoca hanno attraversato la città di Sarzana e hanno proseguito la corsa verso la Cisa per raggiungere Parma. I partecipanti provenivano da oltre 70 paesi diversi. La carovana più bella del mondo era partita da Brescia il 16 maggio per raggiungere Roma e dalla nostra capitale è ripartita per tornare a Brescia, dopo aver attraversato molte città, dove è arrivata il 19 maggio. Il 24 maggio per il Tele Liguria Sud è una data significativa perché ogni anno si ricorda Samuele Ratti, Samu per gli amici, uno dei più giovani redattori che in questa data ci ha lasciato troppo presto, per continuare il suo cammino in cieli e terre nuovi. Noi che siamo entrati da pochi anni a far parte del Tg non l'abbiamo conosciuto, ma partecipiamo con affetto a questo ricordo. Vi ricordiamo che mercoledì 30 maggio si svolgerà a Genova la partita del cuore, un'iniziativa di solidarietà e anche di divertimento. Dedichiamo quest'ultima parte del nostro incontro con voi alla festa della mamma, che viene celebrata sempre nella seconda domenica di maggio. Questa ricorrenza viene celebrata quasi in tutto il mondo, ma la data varia da zona a zona. Quest'anno è stata celebrata in Italia proprio il 13 di questo mese. Con la festa della mamma si è aperta una delle maggiori occasioni di consumo di fiori dell'anno, in Italia e nel mondo. Secondo alcuni dati della Col Diretti, sono stati spesi in quel giorno in Italia circa 50 milioni di euro in fiori, senza contare i soldi spesi per regalare cioccolatini, profumi, gioielli e gadget di ogni giorno. Questo consumismo non era stato previsto dalla ideatrice di questa festa. Si chiamava Anna Jarvis, un'insegnante elementare di mezza età che abitava negli Stati Uniti. Era una donna di fede che nella sua parrocchia si era sempre impegnata nelle opere di carità. Nel frattempo aveva assistito con amore la madre nella sua lunga malattia che l'aveva portata alla morte. Nel cuore di Anna era rimasto vivo il ricordo della madre che aveva seguito con affettuosità la famiglia compasta da dieci figli. La madre aveva lavorato sempre senza mai lamentarsi dei sacrifici che ogni giorno doveva affrontare. Inoltre aveva sofferto tanto per i sette figli, morti in tenere età, affrontando questo dolore senza mai trascurare la famiglia. Per rendere omaggio alla madre ed esprimere la sua riconoscenza, pensò di dedicarle una giornata speciale. Insieme alla mamma vuole ricordare tutte le donne che in silenzio curano la famiglia, lavorano senza ricevere un grazie. Nella società di quel tempo, siamo nel 1910, la figura femminile era poco considerata. Erano gli uomini al centro del mondo. Come fece a far capire il significato di questa festa e a far accettare la sua proposta? Ve lo racconterà Zoe. Via filmato. Anna cominciò ad inviare lettere agli amici, ai giornali, alle autorità politiche e religiore per proporre il suo progetto. Dedicare alle mamme una giornata speciale per ringraziarle dell'affetto che sanno dare, per le cure amorevole ricevute. Dopo un anno circa di propaganda, Anna riuscì ad organizzare per la seconda domenica di maggio una serie di celebrazioni in diverse città degli USA. Era il 1914. Poco a poco la festa della mamma divenne internazionale. Ad appoggiare questa iniziativa furono anche i floricoltori, certi che questa giornata avrebbe portato loro molti guadagni. Anche in questo caso la responsabilità fu sempre di Anna Jarvis, che quando aveva istituito la festa aveva suggerito di portare all'occhiello un garofano bianco, il fiore preferito della madre. Nei primi tempi fu soddisfatta del risultato raggiunto, ma presto rimase delusa dell'aspetto consumistico che la festa aveva preso, cioè che aveva preso una piega sbagliata. Da diversi anni si possono trovare nei banchetti le azalee della ricerca. Le offerte servono per finanziare la ricerca delle malattie più frequenti che colpiscono le donne. Questa iniziativa rende la festa della mamma meno consumistica e più solidale. È giunto il momento delle rubriche. Via Silmato. La rubrica della salute è dedicata alla pulizia delle mani. Il 5 maggio 2018 è stata la giornata mondiale dell'igiene delle mani. Lavarle è molto importante. Questa giornata è stata voluta dall'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La data scelta è simbolica. 5 maggio, come 5 le dita di una mano. Lavarsi le mani non è un dovere solo per chi svolge lavori di tipo medico. L'igiene e la pulizia delle mani è essenziale per prevenire infezioni e malattie. Visto che i palmi, le dita, i polpastrelli sono le parti del corpo che entrano più in contatto con il modo esterno. Ogni giorno le nostre mani incontrano ogni tipo di batterio, quindi non va bene metterle in bocca, nel naso, usarle per cucinare o prendere del cibo e mangiarlo, senza lavarsi prima le mani. Questo sarebbe il modo giusto per prendere le infezioni. È molto importante lavarsi le mani al rientro a casa, perché possono contenere germi presi nelle maniglie dei mezzi pubblici, sui corrimano delle scale e scalinate. Anche se vi può sembrare strano, non dimenticatevi che il cellulare contiene più batteri del water. Lavare bene le mani vuol dire insaponarle per almeno tre minuti prima di risciacquarle per qualche minuto e risciacquare abbondantemente. Con oggi iniziamo la rubrica degli animali dei protagonisti Harry Potter. Il primo è Edwige. Via l'intervista che Giulia, Lucia, Valentina e Zoe hanno fatto a Francesco. Siamo qui oggi insieme a Valentina, Francesco, Giulia e Lucia. Francesco oggi ha portato un animale. Puoi dire che animale è? È la civetta delle levi di Harry Potter, venuta da Diagonalli. Ma allora tu sei stato nel castello di Harry Potter? No. E allora dove l'hai preso? Me l'hanno ordinata perché c'è un sito che si chiama Sito Potter, che si possono ordinare. Come si chiama e come mai ti piace? Si chiama Edwige, la civetta di Harry Potter e mi piace perché è bella. Edwige, che cosa ne pensi della scuola? Ti piace? E la Nutella? Ci puoi dire nei racconti di Harry Potter che ruolo ha la civetta? Porta le lettere agli studenti di Hogwarts. A te piacerebbe ricevere una montagna di lettere come succede ad Harry Potter? Sì, perché mi piacerebbe andare alla scuola di magia di Hogwarts. Quali altri animali ci sono oltre alla civetta? Quello di Ron è un topo, quello di Hermione è un gatto e quello di Neve il paceo che è un rospo. Ringraziamo Francesco per aver portato oggi la civetta Edwige. La rubrica dei personaggi è dedicata a Nicholas Brank. Nicholas Brank è un professore di paleontologia dell'Università Inglese Reading. È un appassionato delle alture dell'Appennino Ligole perché questo ambiente è ricco di storia. Storia dell'ambiente che ha subito dei cambiamenti sia col variare del clima sia per le attività dell'uomo. Questo studio vuole scoprire quali pianti crescevano nei prati e nei boschi di queste zone. Perciò va alla ricerca dei pollini rimasti imprigionati e conservati nei terreni umidi e negli acquitrini, nella Val Daveto e nella Val Chicero. Il professor Nicholas Brank, collaborando con la sua equip, è risalito fino a 7.000 anni fa ed ha scoperto che da quelle parti la vegetazione era composta da abete bianco, ormai scomparso. Il terreno infatti è stato trasformato in pascolo. Gli studenti continuano con la speranza di fare altre scoperte interessanti. Nella rubrica delle parole estinte vi presentiamo Guastapagnotte. Questa parola ha origini molto lontane, deriva dal latino vastare, rendere vuoto, rendere al suolo. Il termine non si riferisce ai topi che rosichiano di tutto, pane secco, formaggio, carta e altro. Indica invece quelle persone che mangiano pane a tradimento, cioè che vivono alle spalle del lavoro degli altri. Da parecchio tempo questo vocabolo non si usa più, anche se oggi il mondo è pieno di Guastapagnotte. Il termine Guastafeste invece resiste. Si usa per indicare le persone che rovinano una festa, con pettegolezzi, battute acide o continue critiche. Questi personaggi non sono mai benvenuti, soprattutto se la festa è fatta con le pagnotte degli altri. La rubrica dell'ecologia è dedicata ad un'alga speciale. Si chiama Cistoseira amantea. Questa specie cresce sul fondale roccioso di quasi tutto il mare mediterraneo. È formato da rami abbastanza morbidi e poco spinosi, allungati, inuniti tra loro e all'aspetto di un cespuglio. La corrente marina li fa dondolare. Un tempo la Cistoseira amantea cresceva nei fondali rocciosi delle Cinque Terre, ma col passare del tempo si è estinta. Oggi quest'alga è molto diffusa sui fondali rocciosi di Portofino e da questa zona è partita l'idea di far crescere di nuovo la Cistoseira nel mare che bagna le Cinque Terre. Proprio in questo periodo la riserva di Portofino è partita dall'aria popolazione. Speriamo che vada tutto bene. La Cistoseira amantea svolge una funzione importante nei fondali rocciosi, come succede per la Posidonia. Credo che riesci a sfondare i sabbiosi. Ambe due fanno da sentinella al mare perché ci avvertono del suo stato di salute, cioè del grado di inquinamento delle acque. Per la rubrica degli animali siamo qui insieme a Filippo, Lucia, Emanuele, Dylan e abbiamo un ospite di nome Katia. Chi hai portato oggi? Allora, oggi ho portato i miei due conigli, Luis e Olivia, per parlarvi di come li tengo, di come si curano i conigli. E perché la scelta dei conigli e cosa ti ha colpito di loro? Allora, io sin da piccola ho sempre avuto conigli, il mio primo coniglio di nome Lola. C'era molto affezionata, ce l'ho avuto per tre anni circa, ma poi è scappato. Una volta ce l'hanno anche riportata, però la seconda non è più tornata. E ora non si sa la fine, quindi? No. Che nome gli hai dato? Allora, questo qua l'ho chiamato Luis. Come mai gli hai dato questi nomi? Perché innanzitutto non sapevamo neanche come dargli allora, visto che io seguo molto di One Direction. Ho deciso di chiamarlo Luis e l'altro invece volevo chiamarlo Zail, però poi sono andata per un nome russo che vuol dire Snijok, che si chiama Snijok ma che vuol dire fiocco di neve. Ma poi abbiamo scoperto che è una femmina e l'abbiamo chiamata Olivia. Vanno d'accordo i tuoi conigli? Sì, sono andata in accordo sin da subito, ma visto che sono maschio e femmina, è molto probabile che lei sia incinta. E quindi lasciare un maschio con una femmina mentre lei è incinta, il maschio rischia di ammazzare i cuccioli. O se nel caso lei partorisce e fa il nido, perché i conigli fanno il nido, gli cade il pelo dalla pancia e li partoriscono, lei diventa molto protettiva verso i cuccioli. Quindi abbiamo anche deciso di separarli perché otto ore dopo che la femmina ha partorito può già tornare incinta. Cosa mangiano i tuoi conigli? Allora, una cosa che è stata molto detta è che i conigli mangiano le carote, che praticamente non mangiano solo le carote, ma è sbagliata perché i conigli devono mangiare una carota alla settimana perché li fa male mangiare troppe carote. Ma invece i cibi che andrebbero dati sono i broccoli, le bietole, i cavolini di Bruxelles, il cavolo verza, il cavolo nero e il coriandolo. Poi ai conigli fanno molto male le mele, le pere perché hanno carboidrati e zuccheri. Come si vive con un coniglio in casa? Allora, col coniglio andrebbero passate circa tre ore lasciandolo fuori dalla gabbia perché sono animali che soffrono di depressione se non stanno ogni giorno a contatto con l'uomo. Invece se non si ha tempo di stare dietro al coniglio bisogna riunirlo a un esemplare della stessa specie. Ma in casa fanno dei danni i conigli? Allora, i conigli possono fare i loro bisogni in casa a meno che non li puoi abituare a farli nella lettiera. Altri danni che possono provocare sono che loro mangiano i cavi, quindi è meglio tenerli lontani da magari i cavi del telefono, cose così. E tu ci hai detto che i conigli devono stare almeno tre ore a contatto con l'uomo, ma a loro piace essere coccolati? Anche se sembrano carini e coccolosi, i conigli non apprezzano molto essere toccati con troppa frequenza perché hanno paura di essere abbracciati soprattutto se ti chini su di loro per prenderli perché per loro è come essere attaccati. Addirittura alcuni esemplari tollerano essere toccati per lunghi periodi e potrebbero reagire anche mordendo. Sono molti di più quelli che invece desiderano un contatto per pochi secondi. Abbiamo visto che oggi li hai portati in delle gabbie, ma ci devono vivere o solamente per portarli fuori? Allora, io queste gabbie le uso solo per portarli in dei posti, visto che è un trasportino e una gabbia più piccola. Io tengo i conigli in una gabbia abbastanza grande, è 90 cm x 50 cm, però spesso li libero in giardino. Ho una gabbia molto grande da tenere in giardino. Molte persone li tengono liberi in casa, però io visto che ho due cani non posso lasciarli liberi perché sennò... I tuoi conigli possono avere delle malattie? Allora sì, possono avere quelle gastroenteriche che colpiscono l'intestino e una ulteriore malattia molto comune che colpisce le zone cutanee del coniglio ed è dovuta a una cura insufficiente del pelo. Allora, ringraziamo Katia di averci portato qui con noi i suoi due conigli. Con questo divertente filmato termina il nostro TG. Grazie per averci ascoltato e alla prossima domenica. Ciao!